Ciao ragazzi, questo video sarà brevissimo, è solo per darvi una piccola news e un'anticipazione del video che uscirà come sempre il sabato. E ecco, quindi oggi ho finito quel corso che vi avevo detto e questo è il certificato. Sono ufficialmente pizzaiola, eccolo qua. Quindi da oggi, pizza per tutti e pizze mie. Bella, bella, bella soddisfazione, bravo insegnante, ero ora che faccio qualcosa nella vita. Eccolo qua. Ok, quindi sempre pollice in su, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Grazie a tutti.